come faccio a spiegarvelo bene vediamo se stavolta la capite muore di eroina gialla d'accordo? la vostra proposta sicuramente chi ha scritto Nicola Cassone è l'antiproibizionismo con la argomentazione che se io produco cannabis se la metto a vendita in farmacia o dal tabaccaio tolgo i soldi alla mafia non conoscete il meccanismo il meccanismo la torta della droga prevede una fettina relativa alla cannabis che lo ripeto è il gate d'ingresso al mondo delle droghe ma i profitti maggiori evidentemente vengono compiuti dagli oppiacei l'eroina dalla cocaina dalle droghe sintetiche dall'ecstasy, dalla metanfetamina dal MDMA da tutte le droghe sintetiche più gli oppiacei più la cocaina questa è la grande torta se la vostra cultura diventa per togliere i soldi alla mafia devo vendere la cannabis in farmacia sappiate che per togliere veramente i soldi alla mafia doveste mettere in farmacia a libera vendita l'eroina la cocaina la MDMA le metanfetamine la droga dello stupro è tutta la parte che fa veramente il mercato anche perché vi assicuro che quando voi farete la droga legale semmai riuscirete speriamo di no perché noi ci opporremo quella droga legale che vendete dal tabaccaio verrà venduta a molto meno con sostanze molto più diciamo così psicotropicamente efficaci da una mafia che sarà sempre capace di stare avanti sul mercato a meno che non decidiate di venderla ai 14 anni ai 15 anni in farmacia cosa che insomma non si fa neanche con le sigarette figuriamoci se lo potete fare con la droga ma allora avranno sempre un mercato sconfinato allora o colpiamo lo dice bene Vito Pietro Loporchiaro i patrimoni del grande spaccio e attacchiamo frontalmente il mondo della droga sapendo bene dove si spaccia a Roma io posso indicarvi i posti e noi lo dicevamo quando ci siamo candidati a guidare la città se io fossi sindaco andrei con la fascia tricolore sul ponte di Trastevere dove si vende la cocaina tutte le sere e andrei a fare tutti i giorni opera di ordine pubblico per smantellare quella piazza di spaccio tutti conoscono le piazze di spaccio in città tutti si possono contrastare se uno ha volontà di contrastarle con tutti i mezzi secondo me perché la vita di Alice che muore da sola nel cesso della stazione di Udine vale l'impiego di tutti i mezzi a 16 anni è morta sta ragazza e se non l'avessimo detto noi oggi qui in diretta stampa Evangelo non lo saprebbe nessuno adesso andate a guardare su Google Alice eroina gialla Udine e guardate la foto di questa ragazza di 16 anni e ditemi se la vita di questa ragazza non vale tutti gli sforzi possibili per contrastare lo spaccio di droga nelle piazze di spaccio ben note di ogni città compresa Udine e compresa la stazione di Udine dove si sa benissimo che i nigeriani spacciano l'eroina gialla ci non lo sapere 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 Grazie a tutti.